insieme 2015 è forte di due successi già molto ben collaudati e quindi ci sembrava giusto rimettere insieme le principali organizzazioni di service che operano nel mondo per fare una terza volta insieme solo che questa terza volta insieme intanto ha portato a casa un risultato fortissimo quello di un nome come nicola piovani ecco allora com'è caduta la scelta su questo grandissimo maestro e grande artista cominciamo proprio da qui è caduta perché appunto come ha già detto lei si tratta di un grandissimo artista che onora il cinema onora la musica onora il paese e quindi poi è romano poi a parte tutto io l'ho sentito anche quest'estate per esempio in calabria stranamente ha fatto un bellissimo spettacolo in una cornice stupenda di una cosa sotto la luna però in mezzo a delle rovine romane veramente bello molto suggestivo devo dire però sarà anche questa sera chiaramente con delle differenze un quintetto per il maestro ma soprattutto voi ecco tutti insieme quanto è facile o meno mettervi tutti insieme però io devo dire che quando c'è di mezzo l'aiuto all'altrui persona forse le cose funzionano proprio in questo senso funzionano meglio tutti insieme sì tutti insieme perché no il problema che stiamo poco insieme è il fatto che in effetti le nostre attività di servizio sono affidate a delle cellule che sono i club e i club sono autonomi anche fra di loro cioè alle volte il presidente del roma nord non conosce quello di iglesias tanto per fare il nome di due nostri club e quindi fanno attività diverse separate trovarci insieme anche con le altre associazioni di servizio è sempre un momento anche di confronto che come sempre il confronto porta a migliorare tutti e di questo siamo veramente tutti convinti ad un miglioramento tale che avete individuato due realtà per lo scopo di stasera che sono una un vero e proprio fiore all'occhiello l'ospedale pediatrico bambin gesù e l'altra una realtà fresca della presidenza della dottoressa passeri che ho avuto la fortuna di conoscere e personalmente anche in altre occasioni come sono state scelte queste due realtà ma si forma un gruppo di lavoro dove ognuno propone le cose più interessanti più stimolanti che sta facendo e dopo con un po di tranquillità si scelgono le migliori è chiaro che per esempio il nostro best è sempre stato la poliomilite come voi sapete la lotta alla poliomilite però adesso abbiamo altri progetti tipo questo qui del fate bene fratelli che ci sta molto impegnando e i nostri amici hanno il loro e quindi li mettiamo a disposizione di tutti perché chi vuole perché vede noi non dobbiamo fare beneficenza non siamo associazioni di beneficenza lei l'ha notata ed è stata molto brava alle volte mi arrabbio con gli intervistatori che mi dicono ma voi fate noi non siamo nati per fare beneficenza siamo nati per cercare di fare da leva per poter eliminare i problemi che stanno alla base della necessità di fare beneficenza